Amici e amiche salve a tutti e ben ritrovati nella visione di questo nuovo video appartenente alla serie disonesta Beh sì perché andiamo a confrontare due smerigliatrici di marca e natura completamente diversa Alla mia sinistra con calzoncini in livrea nera e gialla abbiamo la smerigliatrice DeWalt a batteria con 18 volt Equipaggiata con un disco da taglio per ferro acciaio marca PWI da 115 mm Normalmente questa smerigliatrice va per dischi da 125 mm Per farle rientrare nella categoria e accedere a questo combattimento l'abbiamo scesa di disco Quindi abbiamo messo un disco un pochino più piccolo Normalmente questa smerigliatrice ha circa 9000 giri al minuto Si suppone che con un disco più piccolo il motore guadagni più velocità E quindi insomma magari avremo anche qualche giro in più Sul lato destro invece abbiamo la sfidante che è una Bosch Che funziona a 220 con calzoncini neri e verdi a partire per la linea verde Velocità di rotazione 12.000 giri al minuto E nasce per l'utilizzo con dischi da 115 mm di diametro Che cosa cercheremo di stabilire? Beh innanzitutto la bontà e la facilità nel eseguire un taglio longitudinale Di questo tubo quadrato in ferro con uno spessore di 2 mm Cercheremo di valutare qual è la facilità, la bontà del taglio E anche chiaramente la rapidità Chiaramente si tratta di dati che non vanno considerati con un valore puramente statistico Perché altrimenti insomma ne dovremmo eseguire tanti per avere realmente un valore medio Però quello che mi interessa è poter offrire un valore diciamo seppur generico A coloro che hanno interesse nel guardare questo video E quantomeno farsi un'idea della differenza nell'utilizzo di un taglio così semplice Per quanto riguarda una macchina a batteria e un'altra che funziona con la 220 Si tratta di due eccellenti marche Sia che si tratti a batteria che a 220 faranno sicuramente la loro bella figura E alla fine le considerazioni chiaramente non andranno a disprezzare nell'una nell'altra Proprio perché insomma non avremo brutte sorprese ritengo Probabilmente io ritengo che la prova se la vogliamo vedere come una sfida Sarà vinta dalla Bosch Proprio per la facilità di apporto di energia Per l'energia più lineare suppongo Che offre al motore uno spunto e una costanza di taglio migliore rispetto a quella che può offrire una batteria alla DeWalt Però può essere una sorpresa può essere che mi sbagli Quindi l'unica maniera per giudicare sarà seguire nella visione del video e vedere come va a finire Ok? Quindi spendo due paroline anche per quanto riguarda i sistemi di protezione Io indosserò questa mascherina per le polveri Guanti per evitare schegge e detriti Guanti, occhiali per evitare schegge e detriti E guanti in cuoio per le mani Quindi a questo punto azione E guanti in cuoio per le mani 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 Ragazzi già che ci siamo colgo l'occasione per farvi vedere cosa non ho respirato con due semplici tagli Guardate che porcheria Dovrebbe essere di questo bianco E invece insomma si è sporcato con la polvere di limatura di ferro Vedete questo normalmente è quello che uno con due tagli Quindi va a respirare se non ha una mascherina Ora chiaramente questo filtro lo userò magari anche un'altra volta per dare una spazzata in garage Per ripararmi ulteriormente da qualche lavoretto dove si generano polveri e poi lo vado a sostituire con uno pulito che mi protegga adeguatamente Ok ragazzi abbiamo concluso questa prova Il risultato secondo me è abbastanza evidente Vale a dire che secondo me se avessimo messo in competizione queste due smedigliatrici La vittoria sarebbe senz'altro andata alla Bosch Perché? Perché mi ha permesso di fare un taglio assolutamente più pulito, più lineare Con la DeWalt in queste condizioni soprattutto dettate dalla scomodità della posizione E anche dalla direzione del taglio Non sono stato in grado di fare un taglio retto Probabilmente anche perché ero sopra la smedigliatrice E le scintille mi arrivavano chiaramente direttamente sul viso Sono io che ho sbagliato un attimino la mia posizione Ma chiaramente per mettervi tutto quanto a favore di camera Non avevo tante altre alternative Purtroppo in situazioni filmiche, in situazioni sceniche Diciamo che è difficile trovare l'ideale compromesso per una buona inquadratura E buone condizioni di lavoro Ragion per cui, vi stavo dicendo La Bosch è andata sicuramente meglio della DeWalt Perché l'erogazione del motore in fase di affondamento del disco Mi hanno consentito un taglio più lineale Più retto e meglio rifinito Senz'altro Rispetto al taglio della DeWalt Non ci sono state evidenti flessioni nella potenza di erogazione del motore Il disco, tra l'altro, è stato consumato in maniera diversa Dall'una all'altra smerigliatrice Nel senso che la DeWalt se l'è mangiato letteralmente Se ci fate caso, il diametro minore è proprio quello della gialla e nera Mentre la Bosch ha mantenuto un buon diametro di disco Perché? Vuoi perché magari nel fare zig zag Me ne sono mangiato un pochino di più io Se è mangiato, se è consumato di più lateralmente Probabilmente anche il fatto di avere più giri Con l'utensile Bosch Ha favorito un minor consumo paradossalmente E quindi la prova è riuscita così Giudicate voi, insomma Già vi avevo annunciato che non sarebbe stata una prova scientifica inoppugnabile Quindi l'ho voluta semplicemente lanciare così Commentate, giudicate Non mettermi troppo in croce, per favore E poi ci becchiamo nei commenti Ok? Un saluto e alla prossima Ciao Ciao